del mare. In diretta per noi c'è il nostro inviato Matteo Parlato. Buongiorno Matteo, cos'è successo? Altri sbarchi? Buongiorno, buongiorno a Lampedusa. Sì, esattamente così. C'è stato poco fa un secondo sbarco da un pattugliatore della Capitaneria di Porto. Sono sbarcate 144 persone, fra cui 44 donne e 5 minori, minori molto piccoli. Sono finite le operazioni di sbarco, tutte queste persone, tutti questi profughi sono stati portati nel centro di accoglienza qui all'isola di Lampedusa. Con quest'ultimo arrivo siamo a 303 persone arrivate qui sull'isola da questa mattina. C'è stato pure, che questo è un fatto nuovo, quasi inusitato, una barca di profughi che è arrivata per conto suo proprio questa mattina all'alba. Ma, secondo i dati che ci arrivano dalla Capitaneria di Porto, in queste 24 ore, cioè dalla mezzanotte di oggi, quella della notte successiva, in queste 24 ore si aspettano qualcosa come 559 persone a questo momento. C'è stato anche un intervento che è gestito dalla Marina Militare a Largo di Malta, dove un'imbarcazione con altre 50 persone è stata soccorsa, per l'appunto, dal mezzo della Marina, mentre, sempre secondo le notizie che ci vengono da Capitaneria di Porto, altre 100 persone sono state prese in consegna dalle moto verette libiche e riportate indietro. Quindi possiamo vedere che i segnali che già nel giorno dell'arrivo del Papa ci segnalavano, per l'appunto, che il flusso dal sud al nord si è riaperto. Questi segnali vengono confermati con un fronte che in questo momento va proprio da Lampedusa, Portopalo, Malta. Quindi qui ci si aspettano, nelle prossime ore, ci si aspettano, per quanto riguarda tutta la macchina di guardia di soccorsi, ore intense, ore di lavoro. E proprio su questo sentiamo che cosa ci ha detto il comandante della Capitaneria di Porto di Lampedusa. Sentiamo il servizio. Comandante, condizioni meteo perfette. Questo significa ore di intensa attività? Beh, sì, con il bel tempo ci aspettiamo che ci siano ulteriori emergenze nelle prossime ore. Ovviamente il fenomeno è aleatorio ed imprevedibile, quindi qualsiasi ipotesi poi dovrà essere confermata dai fatti nelle prossime ore. Comunque, il tempo è sicuramente favorevole a partenze che possano mettere in pericolo vite umane nel mare che ci separa da qui alla Libia o Tunisia. Alle sue spalle c'è il pattugliatore 906. State utilizzando tutti i vascegli a vostra disposizione in questo momento? Beh, ovviamente c'è un'ottimizzazione delle nostre risorse, una modulazione affinché la salvaguardia della vita umana in mare sia sempre garantita con tutti gli sforzi che facciamo ogni giorno. Matteo, rieccoti in diretta. Puoi sentirci? Matteo, per te subito una domanda. Abbiamo parlato appunto della situazione dei sbarchi delle ultime ore. Abbiamo visto le immagini appena arrivate e anche quanto ci ha riferito il comandante, ma diciamo cercando di dare un seguito a quello che è stata la visita di Papa Francesco di ieri. In questo momento l'isola come sta reagendo? C'è ancora partecipazione? Quale traccia lascerà questa importante visita? Questa è proprio la domanda più giusta ed è la domanda che si fanno tutti quanti qua. Io proprio prima di cominciare questo collegamento avevo parlato con dei Lampedusani che mi hanno proprio detto in estrema sintesi, il nostro periodo peggiore, il punto più basso è stato il 2011, il punto più alto ieri, ora che cosa succederà? E tutti qui si aspettano un cambiamento di marcia. Per gli abitanti di Lampedusa la visita di ieri, la visita storica possiamo dirlo senza ombra di dubbio, che il Papa Francesco ha fatto qui, segna per loro un cambiamento del registo nella gestione di tutta questa vicenda. Loro non vogliono più essere considerati soli, non vogliono più essere considerati periferia nella gestione di questo flusso che non vogliono neanche che sia considerato un'emergenza perché questo qui è un flusso che va avanti da anni, è proprio come qualcuno qui l'ha definita, proprio l'immigrazione delle rondini, è una cosa praticamente normale. Guarda, ti posso dire che in questo momento, mentre parliamo, scusate se cambio discorso, sta uscendo un'altra motovedetta, quindi le parole del comandante si sono rivelate giuste, quello che c'è, che la situazione è fluida, forse fra un po' potrete vederla, la situazione è fluida e con la buona stagione il movimento di migranti da sud verso Lampedusa, verso le coste italiane, ma soprattutto verso Lampedusa che, ripetiamo, è il punto più meridionale d'Europa, è attivo, è in funzione e richiede, nonostante l'impegno di tutti quanti lavorano per la salvezza delle persone in mare. Non so se riuscite a vedere in questo momento la motovedetta che sta proprio uscendo dal porto e quindi qui i dati vengono aggiornati di momento in momento. Se non avete domande, con queste immagini vi restituirei la linea. Ti ringraziamo, Matteo, ovviamente terremo alta l'attenzione su quanto succede a Lampedusa.